Oggi apriamo un servizio nella città dell'Aquila, nel capoluogo di regione della società in house Fira, che è la finanziaria regionale che gestisce tutti gli strumenti economici a sostegno delle imprese e delle partite IVA. Io devo ringraziare il presidente di Fira, Giacomo D'Innazio, per aver creduto nella mia idea di portare anche nel capoluogo di regione uno spazio fisico che possa diventare punto di riferimento non solo per l'Aquila, per la città capoluogo, ma per tutte le aree interne. Oggi il baricentro di Fira era spostato, ahimè, solo sulla costa. Oggi un punto informativo che vuole orientare le imprese per riequilibrare anche il rapporto con la nostra società in house, che è poco conosciuta nelle aree interne e invece offre degli strumenti finanziari solidi e seri alle imprese. Fira Orienta non sarà solo uno sportello dedicato alle opportunità regionali, ma orienterà le imprese nella giungla della burocrazia statale affinché si possa creare imprese e anche rinnovarla. Quindi da oggi il capoluogo di regione, qui nel Palazzo del Consiglio regionale, si dota di uno sportello fisico e auguriamo che le imprese e le partite IVA possano popolare con le loro richieste.